Per tutte queste ragioni la Corte vi ritiene responsabile della morte del vostro amico Professor Kruger, da voi ucciso allo scopo abbietto di derubarlo della formula di una sua preziosa scoperta e vi condanna alla... No, soltanto due Sai, avvicinati, ho incassato l'assegno di George e quello di Jack, il pasticcio è per quello di Nick Andrei a incassarlo, ma se tu mi sapessi dire il numero del conto perché va dichiarato allo sportello E' un numero semplicissimo, due volte due, tre volte tre Oh, 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 oh Fritz ti amo, amore mio te lo giuro, pregherò per te Ragazza resta ancora con me Hai un sogno, lascialo qua, per me, per me Ragazza resta ancora con me